Anche quest'anno torna a Dario, 20, 21 e 22 settembre, Isola Tiberina, Roma, la sfida di Fratelli d'Italia alle stelle. Quest'anno abbiamo tantissimi ospiti internazionali, come sempre, e abbiamo moltissimi rappresentanti di tutte le categorie produttive d'Italia, perché vogliamo capire quali sono i problemi, vogliamo dare delle risposte e soprattutto vogliamo ragionare insieme a voi sul futuro di questa bellissima nazione. Vi aspettiamo!